Buongiorno e ben ritrovati alla rubrica a domanda risponde. Riprendiamo dopo la pausa estiva trattando un argomento molto di attualità, le nomine e le supplenze da GAE e GPS. Veniamo subito alla prima domanda. Non ho preso servizio dopo aver ricevuto la nomina per la supplenza annuale. Cosa mi accadrà? Ebbene, rinunciare a prendere servizio dopo aver ricevuto la nomina, significa perdere la possibilità di ricevere altre supplenze sia sulla base delle GAE o delle GPS, nonché sulla base del legislatore di istituto per il medesimo insegnamento. Dunque c'è questa sanzione che tra l'altro è riportata dall'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020. Seconda domanda. Nelle preferenze della domanda per le supplenze ho messo un comune X, ma sono stata scavalcata da chi aveva un punteggio inferiore al mio ed ha scelto la preferenza puntuale Y di una scuola del comune X. È una procedura corretta? La priorità di preferenza poteva avvenire solo in caso che l'aspirante con minore punteggio fosse in possesso di una precedenza come per esempio l'articolo 21 della legge 104 ed avesse avuto una posizione ingradatoria tale da avere diritto ad una cattedra. Altrimenti non sarebbe stato possibile precedere sulla preferenza puntuale Y di una scuola del comune X. Il docente che invece aveva maggiore punteggio e aveva espresso preferenza sintetica del comune X. Dunque prima veniva chi aveva più punteggio e dunque in preferenza sarebbe dovuto toccare una scuola del comune X anche la scuola Y del comune X. solamente dopo poteva essere accontentato nella preferenza che aveva punteggio inferiore. Terza domanda. Cosa aspetta a coloro che pur inserendo tutte le preferenze possibili non hanno ricevuto dalle gare o dalle GPS nessuna nomina di supplenza o spezzone? Dunque di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o del semplice spezzone? Intanto potranno partecipare alle convocazioni informatizzate da parte dei dirigenti scolastici dalle gradatori d'istituto delle 20 scuole che avevano scelto nel 2020 per le supplenze appunto brevi o fino al termine delle lezioni. Ma potranno lasciare tale supplenze nel caso venissero nominati da ulteriori convocazioni dalle gare o dalle GPS. Speriamo che queste risposte alle domande sulle gare, sulle GPS, sulle supplenze da gare e gps siano state utili ai nostri telespettatori continueremo, riprenderemo da oggi in poi proprio ogni mercoledì la rubrica a domanda risponde. Un saluto a tutti i nostri lettori. Arrivederci. Grazie.